Ciao creatura io sono Ekati Splendente e benvenuta e bentornata nel regno di Kusai ISMA ciao creatura questa sera ti porto un videotag erano mille anni che non lo facevo un videotag ed eccomi qua tornata con un videotag finalmente e questo videotag dico tag perchè mi piace come suona ASMR la parola tag 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 di ASMR Stay si chiama per un pugno di trigger mi piace il gioco di parole che ha scelto inventa sempre un sacco di tag 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 mi ha taggato e quindi ha detto bello mi piace questo video è molto originale se hai deciso di partecipare allora non sono per niente centrata ma non importa andiamo a vedere che cosa le domande insomma allora la prima domanda più o meno domanda è fai il tuo trigger preferito del momento il mio trigger preferito del momento è rullo di tamburi no non è rullo di tamburi il mio trigger preferito allora il mio cioè più di uno in realtà però al momento è un trigger che mi piace particolarmente è il rumore dei fogli perchè lo sento sempre anche al lavoro quando maneggio maneggio foglie e sento gli altri maneggiare fogli e quindi foglie di carta e quindi questo è un trigger motore questo per esempio questa vecchia gentina sia così no che si sfoglia qualcosa sia anche gli oli di carta che si strugge che sfregano tra di loro non so strugge non fosse diretto questo è quanto questo è quanto molto rilassante. Poi, ti piacciono i videotag e le collaborazioni? Sì, mi piacciono più le collaborazioni di videotag perché senza niente togliere i videotag che spesso, essendo delle domande molto specifiche, insomma, le risposte spesso sono le stesse, infatti quando vedo che mi taggavano, non vengo molto taggata proprio perché tante volte non li faccio, mi dispiace, però spesso sono domande che dico, ok, avrei risposto la stessa cosa, come ha detto persona XYZ e quindi mi sembra un video tipo una specie di copiatura, una ripetizione e quindi non mi va e quindi tante volte non li faccio per quelli, tante altre volte non li faccio perché non vengo taggata, quindi, ok, le collaborazioni mi piacciono di più perché sono diverse, come quando collaboro con qualcuno a cui faccio partecipare una puntata di Refare e Bagiare, per esempio, è molto divertente collaborare con altri artisti ASMR, peccato che per adesso, per quella cosa sono ferma, anche se c'è una puntata ancora ferma lì, era quella di San Valentino, quindi mi ho iniziato a lavorare, purtroppo non ho avuto, però riuscirò la volta di tagliare un po' di tempo per concluderlo e quindi sì, preferisco le collaborazioni attualmente. Poi, tre, fai un trigger con un oggetto nero a scelta, allora l'oggetto nero a scelta è stato, ero indecisa tra alcuni oggetti neri, alla fine ho optato per questo, che non si vede perché ho lo sfondo nero e la maglietta nera, che è il bonbon del berretto che mi era stato regalato di buono a Natale. che super, 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 Grazie a tutti. Bello, mi piace molto. Poi, quattro, leggi una cosa che vuoi di almeno dieci righe. Allora, da questo libro che era rovescio, favole, leggerò una favola. Ma dai, se vuoi che legga altre favole di questo libro fammelo sapere nei commenti, ci faremo un video dedicato, o più di un video dedicato. È molto gotico, mi sto regalando da una mia creatura, Deborah, già grazie mille se stai guardando questo video. Allora, dei disegni super belli. Sono storie gotiche un po' tristi, quindi per quello chiedo se più di una persona volesse vedere, cioè voglio un video con queste storie, perché notano moltissimo merito, sono un po' tristi. Però, ora leggerò il principe dei vampiri. Si nascose nel luogo più oscuro della fortezza e contemplò l'orizzonte senza respiro. L'ultima volta che tornò su quei percorsi seppe che oltre ai boschi d'alberi funesti verano tracce di candidi sudari, intrisi di lacrime, in ogni paradiso, in ogni simulacro d'antichi portici. Ed i muti angeli si imprimono indelebili ricordi, continuano a scorrere all'unisolo, le sue lacrime cinere sulle candide cote e con languida espressione accennano sorrisi che si generano nella penombra. Lui riconobbe il volto di tutte le dame che sospinse attraverso cieli tempestosi. Fu lui tra tutti i sinistri principi a occultarsi dentro maschere d'orrende bestie e a baciare le gote di leggiadre bellezze. Accarezzando i loro turgidi seni, prosciugò fiumi di quella linfa rubino che scorreva nelle loro vene, mentre le moglie ponte donzelle gemevano di piacere, sciogliendo la roggiata delle loro lacrime. E se chi è il cavaliere avvolto dalla nebbia, ti maledicono spettri assopiti in lenzuola di foglie morte. Il lago splendore dei tuoi occhi brama declamare la poesia delle dame insonni, un'infinità di rossi e passite piange per loro. Adesso, come etere rampicanti, ondulanti figure, accudiscono la solitudine della spoglie al covo. Accompagnandoti nella ragnatella dei tuoi ricordi e al culmine delle rimembranze, sentirai la nostalgia di tornare ad accarezzare i pulpurei capelli d'una di loro. Prigioniera nella tua irrealità, come uno spettro nascosto in un campanile abbandonato, le rose delle sue labbra ora colano il sangue d'altre epoche. 5 esegui un trigger con un oggetto blu che si trova nella stanza che ti suggerisce che ti ha attaccato e puoi scegliere una per chi taccherai. Allora, io sono stata attaccata direttamente dalla creatrice del tag, che è SMRST, che ha detto un oggetto blu che si trova in bagno e ho un po' parato. Questa è una spugna da bagno, giusto? È blu. È una spugna, diciamo. Sottotitoli Quindi io scelgo, allora, per chi verrà attaccato da me, scelgo un oggetto blu che si trova in cucina, buona fortuna, puoi parare anche tu come ho fatto io, io sono stata anche onesta, poi, lo sai creatura che con te sono sempre onesta, comunque, poi, parla di un film qualunque che vuoi consigliare o sconsigliare, dato che io non sono bravo a spiegare le cose, leggerò perché ho paura sempre di, quando ti spiego un film, spoiler tantissimo, allora cosa ti giusto di fare, ti consiglio un film, beh, chiudi una volta perché mi è venuto in mente da qualche giorno fa di questo film che guardavo da piccola e che secondo me pochi conoscono perché ho parlato in generale con delle persone che in me ne ho mai visto, è metà film, è metà cartone animato, si trasforma, diciamo, in un cartone animato quasi subito, all'inizio, diciamo, ecco, ed è un film troppo bello e che penso che debba essere visto almeno una volta nella vita, magari se si è più piccoli e lo si vede con altri occhi, però comunque va bene, è page master, io non so se lo conosci, creatura, ti leggo la trama così sono sicura di non spoilerare niente perché di solito quando scrivo le trame non spoilerano, allora, dice, Richard è un bambino che ha paura di tutto, è sorpreso, impaurito da un temporale, si rifugia in una biblioteca e si ritrova all'interno di un cartone animato dove deve affrontare tre prove, allora ti spoilerò qualcosa, diciamo che fa amiciste con tre libri, che uno è tipo quello della paura che è bellissimo, il libro della paura è bellissimo, poi c'è quello tipo pirata d'avventura e poi c'è quello, mi pare, romantico, no, fantasy, fantasy, non romantico, che era tipo una fattina, basta, non dico altro, succesi di tutto, è molto bello. Mi andava di consigliare un film vecchio che magari non conosce neanche nessuno perché mi pare che solo io l'ho guardato, Page Master, fammi sapere nei commenti se lo conosci, se l'hai già visto e se ti è piaciuto o se lo guarderai, io non so se si trova da qualche parte, non so se c'è su Netflix o su Prime, non ne ho idea, quindi anche lì, spero si trovi a me, da qualche parte, comunque vabbè, sette, esegui un roleplay a scelta di chi ti tagga e poi scegliene uno per chi taggerai, allora lei ha detto un roleplay medico, io invece scelgo per la persona che taggerò un roleplay, io scelgo medico ma specifico dentista, vorrei vedere fare un roleplay dentista di uno studio di dentisti, non so, qualsiasi cosa, io scelgo quello, lei ha scelto un medico e quello è molto generico, ciao creatora, vediamo un po' come va il tuo piccolo cuoricino di creatura, della creatura del regno di cosai ASMR, come va il tuo piccolo cuoricino umano, adesso vediamo subito, certo, ok, adesso sollevano un attimo la maglia, fai un respiro profondo, trazioni per due minuti, no scherzano per due minuti, ok, ok, facciamo insieme, un bel respiro profondo, adesso rilascia, ok, un bel respiro profondo, butta fuori tutta l'aria, benissimo, ok, ora girati, la schiena, è un po' freddo eh, poi l'altro respiro profondo, ok, trattieni un po' l'aria, benissimo, butta pure tutto fuori l'aria, benissimo, tutta l'aria che hai buttata fuori, ok, un altro respiro profondo, trattieni, da fuori tutta l'aria, da fuori tutta l'aria, benissimo, tutto ok, non hai nessuna malattia, sei soltanto innamorato, creatura sei innamorata, sì, ok, non lo so di cosa, tu saprai di cosa sei innamorato, puoi essere innamorata di un cibo, di un luogo, di una persona, di un animale, certo, non lo so, fammelo sapere nei commenti, poi, fai un trigger con un oggetto arcobaleno multicolor, allora, io me lo ricordavo arcobaleno questo, è multicolor due colori, che è multicolor è più di un colore, giusto? Voglio fare questo, perché è blu, ma poi magicamente è colore argento, quindi per me vale come multicolor. calore 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 che è anche il trigger delle pagine che piace tanto a me bellissimo poi 9 fa un trigger deciso da pttac poi l'ultimo trigger scelto è questo che ha scelto smr ste per le persone che ha attaccato che lei chiamava se è finger qualcosa invece a me mi sembrano farfalle tipo le ali delle farfalle delle falene finger falenose io invece come trigger che scelgo che devono fare le persone che taccherò dopo scelgo scelgo una cosa che mi piace molto che è l'inaudible o l'intelligible che non ho ancora bene capito la differenza per farti capire che cosa intendo ok allora io taggo ninfea asmr poi taggo bitter asmr asmr di punente e ana asmr spero che non l'abbiano fatto beh se l'hanno fatto non succede niente però spero che facciano dal mio tag perché mi piace spero che questo, spero tante cose, spero che questo video ti sia piaciuto ti auguro buonanotte, relax, ciao creatura grazie 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 grazie